In attesa dell'autopsia di venerdì, in attesa dei funerali di Giulia, tra Montano e del piccolo Tiago che portava in grembo, gli occhi sono puntati sulle indagini che oggi hanno visto il sopralluogo degli investigatori nella casa di Vienovella a Senago, dove i due giovani vivevano e dove è stata rinvenuta l'arma che Alessandro Impagnatiello avrebbe usato, secondo le sue stesse parole, per uccidere la fidanzata. Si tratta di un coltello già repertato e che verrà analizzato che il trentenne afferma di aver lavato e riposto in un ceppo di portacoltelli posto sopra il frigorifero. Rinvenuta anche la patente, il banco mate la carta di credito della donna in un tombino nel parcheggio della fermata Comasina della Metropolitana, mentre si cerca ancora il telefono di Giulia. Il sopralluogo sarà utile per verificare ogni elemento relativo alla contestazione delle aggravanti già riconosciute e anche delle altre per le quali la procura vuole vederci chiaro, spiega Giovanni Cacciapuoti, legale dei Tramontano che parla anche dei familiari della vittima. Si sono effettivamente subito allarmati pensando che ci fosse qualche evoluzione brutta. Abbiamo avuto dalla condotta dello Impagnatiello subito l'impressione che non raccontasse tutta la verità. In questa direzione si concentra l'attenzione degli inquirenti. Tecnicamente è possibile che l'uomo abbia fatto tutto da solo, ma si tratterebbe di un'operazione faticosa portata avanti in un lasso di tempo relativamente ristretto. Per questo l'obiettivo è chiarire tutte le fasi del delitto per accertare l'eventuale presenza di complici.